ciao ragazzi benvenuti sul canale allora come state vedendo un nuovo video mi avete chiesto di vedere questi tipi di prodotto in azione perché perché l'altra volta quando vi ho mostrato i miei acquisti del mega haul che avevo fatto su aliexpress eravate curiosa di vedere questi prodotti in azione io vi avevo fatto vedere uno di questi due non so si era l'arancione o questo giallo qua e lo avevo aperto così ma eravate curiose di vedere se questi prodotti funzionano e come se utilizzano allora io mi sono attrezzata ho tirato fuori le mie placchettine queste le stati lo stampo o due tipi o questo o anche questo o questo che se per caso voi non avete questo potete prendere anche una tessera vecchia un banco ma vecchio o quelle tesserine anche se usano per andare nei negozi sapete le fide fider cartone pare che si chiamano o anche questa qua della crista che voglio mettere alla prova anche questi è un'altra cosa ragazza o il nastro adessivo perché ho visto in un video di una ragazza che seguo che americana che lei le stampo lo pulisce qua infatti io prima non so se vedete che qua ci sono degli alloni dei segni io ho girato le del nastro ho preso un po vedete e l'ho girato così per cui qua sopra c'è la parte che incolla allora cosa ho fatto mi sono messa a pulire il mio stampo così perché questi stampi in silicone non si devono pulire né con il clean senne con l'acettone perché si rovinano e si pulisce si puliscono così vedete e vedete come viene molto pulito allora vi stavo dicendo voglio mettere alla prova questi prodotti in qua siete curiosi a vedere se veramente funzionano e allora eccomi qua sono ancora imbustanti perché non li ho tirato fuori da quella volta che vi ho fatto vedere il video allora qua vi dico un po di informazione perché si trova qua per la prima volta allora questo il nome del venditore vedete questo è il prodotto della sevilan sono 8 ml di prodotto a quanto pare è un prodotto polacco e io ogni confezione tubicino l'ho pagato 88 centesimi non mi pare di aver come si dice pagato e spedizione no 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 vedete questo è stato il totale che ho pagato 8 euro i 20 sono arrivati tutti in una busta per cui vi invito a guardare quel video che così almeno vedete di cose sto parlando li voglio scoprire anch'io per la prima volta non ho fatto nessun tipo di prova per cui se funziona non li vediamo subito se non funziona li vedete subito in diretta in questo video per cui ragazze mettetevi comoda che iniziano come prima corsa vado a tirarli fuori di queste bustine queste bustina a il numero del codice di ogni prodotto ma adesso non mi serve perché dopo che io finirò questo video e li vado a mettere nel cassetto dove si trovano le cose per la decorazione allora ragazze sono impedita perché ho i guanti 80 crescite fate una ragazza mentre perché utilizzi guanti mi ha visto che stavo magari spacchettando i prodotti che arrivavano da aliexpress dalla cina avrà detto questa i guanti per il coronavirus no ragazzi o i guanti perché ho troppa crescita e non ho voglia e non ho tempo in questi giorni di farme le unghiette sto aspettando ancora un pochino di più perché devo fare delle cose voglio capire un attimo se provare le le tip quelle là che vi avevo chiesto anche nel nel video se provarla su di me o se fanno un refier normale ho troppa crescita e non mi piace non mi piace quando le unghiette hanno già un po di crescita e si vedono un po brutta in video e allora ragazze facciamo che ci mettiamo i guanti che facciamo prima il giorno che ne sono arrivati questi qua io non pensavo veramente che erano tutti miei ho detto oddio fa c'è qualcosa che non va o c'è qualcosa che ho sbagliato invece no ragazze sono andata a controllarmi l'ordine era giusto pensavo magari che ci fosse qualcuno in omaggio invece no allora la prima cosa da fare prendermi una tovagliettina e ho visto l'altra volta quando avevo aperto uno di questi che sono chiusi vedete che sono chiusi sono sigillati dobbiamo andare lì con una forbicina ad aprirlo allora non fate come ho fatto io con questo che l'ho fatto un mega buco quella volta la guardate dobbiamo andare a prendere una forbicina e fare un buchettino proprio piccolo e adesso mi organizzo li apro tutti li levo il beccuccio vediamo si inizia con questo che così vi mostro anche la colorazione però guardate come si presentano ragazzi vedete sono molto belli a fare un buchettino piccolo allora per più vicino che sto al beccuccio all'inizio comunque si fa un buco grosso vedete questo è il rosso però adesso ragazze intanto io adesso mi preparo a fare il buchetto a tutti e dopo li voglio provare tutti 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 ho tirato fuori delle tippe che non ho utilizzo che non utilizzo più che l'ho tolta del mio espositore di cliente perché sono dei colori un po particolari allora quelle tippe li e le prenderò per per fare la prova di queste cose qua allora questi prodottini qua io l'avevo visto in un video di valentina valentina la seco io non so ragazze una cosa io valentina la seco la seco vivo seguivo sì giusto da tantissimi anni ma tante notifiche non mi arrivavano perché io ero piena o non avevo cliccata la campanellina e un giorno così stavo cercando informazione dei prodotti e non mi pare che darà bene alissa e mi è venuto fuori e il suo e il suo canale e poi ho fatto una scoperta non da tantissimo che lei e valentina musicano per cui e cavolo e sì che questa qua io la seguivo quando lei aveva una linea di prodotti che per lì a volte ragazze abbiamo troppe e seguiamo troppe persone alla fine quelle che ti interessano veramente te li perdi perché ti arrivano tante di quelle notifiche che quello che ti interessa veramente non vai neanche a guardare allora cosa ho fatto quel giorno lì che mi è successo questa roba qua con la valentina io avevo un attimo di tempo e allora la cosa che sono andata a fare è stato pulire un attimo youtube adesso mi arrivano un sacco di notifica delle ragazze che hanno iniziato con il con il canale proprio con pochi iscritti ero una delle prime adesso vanno 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 molto bene sono molto brava non 16 mila 17 così via e sono felice per loro alcune non le scrivo alcune non le scrivo perché non lo so mi fa un po no se che che quando si è un canale così so più o meno a chi e scriverle infatti sono in contatto con alcune ragazze che ho visto che sono molto tranquille molto la buona anche loro hanno il canale mi hanno detto luci ti iscrivi viene a visitare il mio allora sotto i suoi video io vado se mi piace che schiaccia mi piace le lasso un commentino così via vedo che la cosa è molto tranquilla ma con altre non so non so non so anche perché mi è successo una volta che avevo commentato sotto un video qualcosa e la ragazza in questione aveva detto mi trovo sempre delle ragazze che hanno dei canali sono qua commentare secondo me sono in cerca di visualizzazione di live iscritti questa roba qua mi ha offesa veramente perché io non ero lì per quel motivo lì per cui io guardo tanti video della ragazza italiana ma non a tutte commento il video mi piace le scrivo mi piace non mi piace non vado le applicare non mi piace anche perché essendo anch'io una che fa video so tutto il lavoro che c'è dietro e basta e non vado neanche a fare polemiche di robe strane no non è non è in me allora chiusa quella parentesi andiamo a provare questi produttini qua adesso e prendere delle tip e voglio provare la prima cosa che vado a fare e prendere il nastro adessivo questo qua trasparente io questo secondo me possiamo prendere qualsiasi nastro adessivo vedete si apre il nastro adessivo si apre per così allora cosa vado a fare prendo un pochino lo piego questa parte che così mi ferma tutto l'ho avuto qua indietro vedete qua mi rimane la parte appiccicata vedete la parte che alla non si può dire l'adesivo e vado a pulirmi i miei stampi vado a fare questo vedete il nostro come come si vedono si vedono i segni vuol dire che mi sta pulendo quale stampi e vado a pulirmi anche questo questi stampi sono in silicone vedete che tutto quel che c'è pelucchi robe varie tutto si attacca qua sul nostro mano mano che questa parte qua del nastro si sporca voi la tagliate fate le stesse roba allora fatto questo ricordatevi sempre io vado a prendere una placchettina di questa non ha la protezione attenzione perché a volte viene con la pellicolina azzurrina e allora li vedete che le allevate altre volte viene con la pellicola proprio trasparente e voi dovete stare lì a vedere se c'è per quello che a volte ci sono delle persone che dicono ma le stambi e non funziona controllatevi bene ragazzi andate con la puntina delle spot così a grattare per vedere se c'è la pellicola peccato perché a questa se l'ho tolta prima e fate così la levate la pulito un pochino e pronta per il lavoro allora qua indifferente il motivo che io vado a stampare e anche sulla colorazione è soltanto per vedere se questi prodotti qua funzionano allora la prima cosa che io vado a fare mi vado a prendere questo qua giallo questa qua già sigillata sono dei colori che io non uso più prendo poco ragazzi anche perché vedete è una colorazione molto bella it's long h04 la colorazione questa vedete questo giallo qua allora cosa andiamo a fare faccio questo mi metto di qua trascino vedete sto trascinando tutto il prodotto vedete questo lo teniamo qua perché mi può servire per dopo vado a prendere il mio e stamping vado a fare questo lui si è trasferito attenzione perché qua è sporco ai lati ho visto fare anche questa che puliva le stamping col nastro la parte che lei non voleva vedete che si attacca lì al nastro adesivo allora vado a prendere una tip anche questa qua violettina che secondo me si vede molto bene e vado a appoggiare il mio e stampi allora pronti faccio questo da per tutto sopra sotto il latte al lato e eccolo qua diciamo che si è trasferito bene 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 adesso a questo punto cosa dobbiamo fare dobbiamo andare a la mandiamo in lampada per 60 secondi quando siamo contenti del risultato se dobbiamo la sala così allora cosa facciamo sigilliamo e unghietta finita e vedete c'è ancora qua prodotto secondo me questo vedete me stampa ancora bello però vado a pulirmi la mia placchettina vedete con il cleanse pulisco molto bene visto che questo è un gel se questo qua non la mandiamo in lampada questo prodotto non si polimerizza quando si la nostra placchettina non si va a rovinare allora cosa andiamo a fare prendiamo un dischettino che questo è una roba magari migliore di questa perché io mi trovo molto meglio con questi perché quelli lì ormai le stanno facendo che se ti scioglie tolgono in mano vedete la placchettina è rimasta pulita 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 vediamo un attimo o puliamo qua tutto vedete vedete se pulito il nostro estampo allora io una volta cosa facevo prendevo il pat imbevuto di cleanse e lo passavo qua sopra e basta invece si può pulire così come vi ho mostrato allora vado a pulirmi questo e ecco che pronto per un'altra prova adesso io ho preso questo vado a utilizzare questo qua rosso vado a prendermi questo qua della cristal vediamo un attimo visto che sono più piccolo la numerazione è questa e il colore è questo anche qua come prima lo metto qua dietro il prodotto vedete vedete dove sono e dopo vado a fare questo trascino per cui qua trascino ovunque adesso cosa vado a fare metto qua mi prendo il mio estampo appoggio faccio un pochino depressione vedete che si è trasferito tutto adesso vado a prendermi allora io consiglio questo tipo di stampo perché vedete che da qua sopra voi lo vedete e io da lì vedo la mia tippella in fondo la posizione vedete la giro giro da tutte le parte tiro e eccolo qua vedete ok anche questa è andata anche qua come prima pulisco il mio stampo allora sto recuperando questo prodotto anche perché tantissimo questo qua mi può servire benissimo per fare una nell'arte vedete io me lo metto qua da una parte vedete con questo io faccio qualche di rigoro pulisco la mia placchettina pulisco il mio pennello prendo un dischettino imbevuto di clinze faccio la stessa roba me la pulisco e vedete ragazze che torna come nuova adesso vado a prendere un altro colorino questo non so cos'è non so sia il bianco vediamo subito allora una roba da fare che dobbiamo asciugarla la placchettina deve essere asciutta questo è bianco e vi dico la numerazione del bianco è questa e guardatelo lì del bianco ok pronti mi giro ok mettiamola qua questa vedete ce l'ho qui vado a prendere questa rossa allora ci sono un po di righette ero fuori sto facendo questo perché non ho pulito molto bene vedete allora ragazze quando non avete niente da fare fate come faccio io mettetevi un attimo in internet andate a guardare anche se non capite niente da un video da una russa da un americana da una a volte anche guardando ho spinto troppo scusate un attimo ho spinto troppo vi sto dicendo a volte anche guardando dei video un po così anch'io non è che riesco a capire tutto quello che dicono è sempre però vi dico che mi piace comunque mettermi lì a guardarli qualcosina ragazze rimane in testa e secondo me qualcosina se riesce a capire perché quella roba lì del del nastro adessivo io non ho capito niente di quello che ha detto visto che faceva quella roba lì e lo sto provando adesso in diretta qua con voi e come vedete ragazze funziona allora riprendo l'estampo vedete è sporco un attimo eccola lì vedete che bella e c'è ancora qua prodotto secondo me se io vado a fare le stesse roba vedete un altro unghietta ho ancora prodotto se ho ancora un'altra unghietta ho ancora prodotto se devo mettere un altro prodotto e in un altro unghietta non ho più prodotto però come potete vedere ragazze e ce n'è con quella coccettina lì riusciamo a fare tre unghie perché alla fine una ce l'abbiamo qua un'altra unghietta ce l'abbiamo qua e un'altra unghietta ce l'abbiamo qua ok anche questa fatta pulisco diamo con questo non so che colore e allora la numerazione questo vedete poco prodotto ragazze pochissimo questo è nero eccolo lì è nero e questa è la numerazione allora posiziono e tiro vedete che qua non mi prende perché ho poco prodotto prendo il mio stampo faccio questo eccolo qua che si è trasferito vado a prendere questa mi guardo se o l'unghia della cliente qua davanti io vado a guardarmi da qua vedete come poi così adesso ragazze adesso devo guardare io sopra giù e giù eccolo guardate che carina anche fare delle unghiette così fluo con delle applicazioni così allora questi prodotti quali vendono anche fluo ragazze ho visto nel sito che ci sono anche fluo adesso quando abbiamo allora il nastro ancora me pulisce me pulisce fa il mio stampo però non possiamo essere così che adesso cosa faccio lo arrottolo tiro un altro pochino indietro posiziono questo dietro e ho nastro pulito qua ok adesso andiamo a prendere questo colorino qua è il x non h 07 è un viola come si vede lì dalla e vado 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 a prendermi mi ispira questo ho messo tantissimo allora anche qua placchettina prontino tiriamo bene 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 allora si avrebbe da fare questo se vedete che ha delle richieste fatte così come ho appena fatto io stampo vedete c'è mi prendo questa qua fluo e questa la metto un po' oddio mi sono mossa mi sono mossa ragazza c'è un tiro ok ecco no niente via via la leggo la leggo la leggo dove il dischetto ho sbagliato aspettate la che la rifaccio ok ok vedete la lì molto bene si è trasferito benissimo anche quello andiamo avanti molto velocemente perché non voglio che sia un video lunghissimo questo è dorato mamma mia che carino la numerazione questo y h 10 e dorato guardate che non sia fuoco che bello stampo si è trasferito molto chiarina come cosa mamma mia ragazze che bello aspettate un attimo guardate che bello allora con tutte queste luci quando si riesce a vedere ma dal vivo è stupendo questo in un fondo nero ci sta da dio ferme 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 che voglio provare con questo pochino che ho qua con le tippe che avevo utilizzato l'altro giorno un secondo queste tippe guardate qua non sono sigillate allora qui wow che bello guardate che bello che forse qua che c'è meno luce non so come farvi vedere a voi questa nell'arte guardate che carino molto ma molto bella su un sfondo così nero che corino che figata bello adesso questo colorino messa che allora questo è l'argento allora visto che ho fatto loro facciamo l'argento sì che l'argento vi do la numerazione dell'argento e questo y h 11 eccolo guarda se non siete a fuoco guardate guardate che bello è stupendo vediamo se questo colorino qua si si vede sopra questo rosina penso di no prendo quello che c'è qua eh ragazze quello di prima vediamo sì si vede un pochino vedete è lì da una parte si vede si vede lo vedete vedete che bello sopra una superficie nera è molto bello allora la numerazione è questo y h 11 vi stavo dicendo quando non eravate a fuoco che dovete aspettare che questo questo e la placchetta si asciughi bene ok prima di mettere un altro prodotto puliamo voi lo conoscevate il trucchetto del nastro adessivo e il stampo qua il tappo del stampo come si chiama questo le stampi no non so come si chiama come si chiama questo lo conoscevate questo trucchetto qua fatemelo sapere o se per voi è nuovo e vi ho aperto un mondo adesso vado a prendere questo h si y h se lo sai che bello questo blu guardate che bello molto ma molto bello allora è un blu molto bello questo mettiamolo qua anche qua stampi allora non fate tanta pressione perché se non succede questo che mi ha appena successo a me si si apre un pochino di più perché questo è silicone e allora si apre un po quando fate troppa pressione lo ripasso qui vediamo un attimo se mi viene meglio faccio appena appena eccolo meglio vedete teniamo questo e vedete ragazzi con una goccettina di prodotto potete fare due unghiette perché se la cliente se voi proponete alla cliente dai ti faccio un stampo con un pochino di prodotto potete stampare fare stampo a due unghiette anche o anche a quattro perché secondo me se pulite questo e passate di nuovo la le scheda sopra con il prodotto che rimane qua riempite ancora dove è andato via e secondo me riuscite a fare altri stampi perché guardate ce n'è ancora vedete vedete che c'è ancora questa è la numerazione y h 0 5 questo è verde prendo pochissimo un che bellino adesso ve lo mostro guardate che colore carino questo qua molto ma molto bello questo ve l'estate segnando ragazze segnatevelo segnatevi questi questa queste colorazione qua perché sono molto belle io sono andata così a occhi chiusi perché quel giorno lì che ho fatto l'ordine messa che non mi ero iscritta niente sono andata proprio così a occhi chiusi mi devono arrivare ragazze un sacco ma un sacco di prodotti di aliexpress perché quando io ero in ospedale mi sono caricata la mia posta pain dovevo farmi passare la giornata no e io ho fatto degli acquisti ho fatto malanni qua ho un verdino e non posso mettere perdino su verdino aspettate un attimo che mi cerco un'altra città e guardatelo lì molto ma molto bello anche questo si è trasferito benissimo e sono sicura che c'è ancora prodotto proviamolo qua vedete potete fare un'altra onghetta e potete fare un'altra onghetta la terza la terza no la quarta no però se andate a fare di nuovo a prendere prodotto qua vi fate quattro unghiette eccole qua vedete con quel pochino lì di prodotto riuscite a fare quattro unghiette riuscite a contentare una cliente con quattro unghiette e stampate allora ragazze questa tecnica qua è molto furva soprattutto per le ragazze che sono un attimino negate passatemi il termine con la con i decori se prendete delle placchettine come queste di queste stampin così carini che costano un pochini anche su alies potete ragazze e svizzarrirvi e le vostre cliente saranno contente perché voi le farete sempre dei decori molto carini a questi qua sono della adesso vi dico che sono con questo marchio qua bon prix questi mi avevano contattato una volta e mi avevano chiesto di fare una collaborazione con loro e parliamo dei tanti anni fa allora ragazze un attimino che vado in cerca di altri stampi allora questi non li utilizzo più allora prima di metterle via li puliamo molto bene se vedete che passando l il pat imbevuto declines e così sopra non fa via le sbocco fate questo o prendete bella il vostro pennellino con quello che spolverate le unghiette però quello rigido e pulite se no prendete questa puntina qua fate questo bagnate un po di clinze qua vedete accendete la vostra pressa e andate dentro ok vedete prendete un pat pulito un pochino più di clinze e fate questo e la pulite così siete secure che non ci sono residui di prodotti e in mezzo alle fessure vedete ok per cui questa non l'ho preso più per cui la metto via pulisco la sua scheda che se per caso ragazze comprate questo e non avete queste schedine potete utilizzare quelle che si utilizzano per per il supermercato un banco ma vecchio un codice fiscale vecchio allora questa la metto da una parte a che si asciughi e non trovato questo che qua dentro io avevo o non avevo o queste che ci sono tutti questi vi ricordate ragazze che all'inizio si usavano tutte queste cosine qua buon cielo 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 tutti questi stampi della essenza eccolo qua che non mi ricordavo più vedete come se si chiamasse e ho un altro qua dietro e basta adesso io vado a prendermi una proprio così qualsiasi anche questa che secondo me è venuto in qualche giornalino a pulirmi la lascio cosa vado a fare vado a prendere questo ultimo colore che qua e vado a provarlo sopra a uno di questo un fiorellino prendo anche questo che così carino poco prodotto ragazze perché questo e niente in tutto adesso vi dico la numerazione y h 09 è l'ultimo colore la colorazione questo qua questo bellissimo arancio prendo le schiena vado a trascinare il prodotto così pulisco lo pulisco e faccio questo eccolo qua si è trasferito e vado a applicarlo qua e eccolo lì e c'è ancora prodotto ok me pulisco riprendo e posso fare altre unghiette allora ragazze come avete potuto vedere il prodotto funziona perché ho fatto tutte queste prove qua l'avete vista proprio così dal vivo insieme a me perché anche io per la prima volta li ho provati ho voluto testarlo anche e sopra a diverse placchettine di prevenienza diversa per cui di bonprit o aliespre della crystal e anche queste qua della non so da dove sono venute fuori queste ho voluto provarle anche sopra a queste qua e come avete potuto vedere ragazze il prodotto se trasferisce molto bene e con un pochino di prodotto riusciamo a stampare una tip e come vi ho fatto vedere qua sopra al mio guanto sono riuscita a stampare altre tre volte per cui con pochissimo prodotto ragazze poter possiamo esbizzarrirci come vi ho detto durante il video questa è una tecnica molto carina per chi si trova alle prime armi per quanto riguarda la decorazione delle unghie magari non è molto bravina o ha paura per cui ragazze potete comprare di queste placchettine qua queste stampe e stampin qua e su aliespre su tanti altri siti trovate un'infinità di decoro dei disegni di queste cose qua e potete esbizzarrirvi con un prodotto di questo prendendo il bianco il nero un rosso un blu un verde vi durerà tantissimo perché sono 8 ml di prodotto e avete visto che serve proprio una boccettina di prodotto va niente sprecato perché potete con un pochino di prodotto potete colorare anche e cinque unghie o anche le dieci unghie se mettete un pochino più del prodotto vi ho insegnato anche questo e non so se lo sapevate questo depulire le stamping con il nastro adessivo io come vi ho detto ho visto questa cosa qua e l'ho voluta provare adesso con voi e secondo me non secondo me abbiamo visto insieme che funziona perché così il nostro e stampo non si rovina perché andiamo a pulirlo qua e scaricare il prodotto così come sto facendo vedete andiamo a fare questo e rimane sempre bello vedete bello appiccicato sentite questo è il mio guanto vedete e non si rovina perché io ho notato che quando lo pulivo con il clinze o con l'acetona lui diventava un po' strano e secondo me quella americana lì è già arrivata e ha detto aspetta un attimo che vado a pulirlo così con il nastro adessivo e questa cosa è molto furba allora vi ho detto anche un'altra cosa che se per caso comprate queste placchettine qua e non avete questo potete utilizzare una scheda una semplice scheda e niente ragazza io spero che questo video vi sia piaciuto e stanno arrivando mano a mano e il video delle vostre richieste dei miei acquisti ideali express io spero che questo sia stato del vostro gradimento e che possa servirvi ragazze andate a vedere il sito che vi ho mostrato dove lo comprate e spero che lo comprate anche voi e che siano prodotti che possano esservi utili e così almeno voi mettete in moto la vostra creatività e farete dei lavori bellissimi perché di questo si tratta se condivido questa questa mia esperienza e questi prodotti con voi e perché voglio che anche voi avviate questo tipo di prodotti di prodotti perché mi sono trovata bene anch'io come avete visto sono tante colorazioni sono uno due tre quattro cinque sei sette otto sono dieci prodotti sono dice colorazioni una più bella dell'altra per cui sono molto belle e niente ragazze lasciatemi sotto un commentino fatemi sapere se anche voi conoscevate la tecnica delle scotch e fatemi sapere se anche voi conoscete questi prodotti qua ragazze come vi trovate e anche che altro e come si può dire utilizzo date a questi prodotti qua niente ragazze continuatemi a seguire perché stanno arrivando tantissimi video interessante in questi giorni qua sono qua alla registrazione di tutti questi video qua ciao ragazze e ci sentiamo al prossimo video